Allora, già normalmente la colazione è il mio posto preferito della giornata. Quindi in albergo una delle mie colazioni dura tanto quanto un pranzo di matrimonio. Adesso però, con il discorso del covid, le colazioni non sono più a buffet libero, ma c'è il cameriere che ti impiatta, ti segue, eccetera. Quindi, a malincuore, mi devo dare un freno perché sennò faccio la figura di quella che lo mangia da un mese. Comunque, adesso passeggiatina per cercare di smaltire un po' di peccati. Scusate lo sguardo del menga, però sta uscendo il sole e mi sto accecando senza gli occhiali. Ho fatto uscire anche il sole, pazzesco.